Ciao ragazzi e ragazze siamo giunti a chi? Eccoci qua, su richiesta di molte persone due da cinque ragazzi come ci ha chiesto la fragolina è un'altra persona che non mi ricordo il nome perdonami abbiamo preso anziché uno da dieci due da cinque alla fine è sempre 12 euro è tutto per tutto e niente il vernessone tutto per tutto tutto per tutto forza ragazzi dai che vuoi fare la foto però così finissimo ok venite con noi un attimo che devo riprendere ciao passù che andiamo dai ciao passù sento sul binocolo eh non vorrei sbagliarmi a leggere quindi ho qualche cento miliardi di euro non mi accorgo ok vai allora oggi proviamo con due da cinque euro su richiesta delle nostre amiche che hanno detto provate con due da cinque che magari abbiamo fatto tutto per tutto allora qui ci sono i numeri vincenti qui ci sono i numeri che dobbiamo trovare e qui c'è moltiplicatore in base a quello che c'è su moltiplichi la vincita se c'è ok mi sembra uno del telegiornale veramente allora notizie via numeri vincenti li vedi i numeri vincenti allora primo numero 29 29 il kiwi il kiwi 14 l'albicocca l'albicocca tutto frutta oggi frutta oggi frutta poi abbiamo il 19 19 mi piace di mia mamma 19 la ciliegia durone il durone poi 15 anche il 15 mi piace molto quindi questa volta sbanchiamo 15 sono le nespole brava non mi viene il nome 18 le mele ranetta allora ragazzi sono bellissimi numeri sono numeri belli mi piace giocateli questi qui perché 29 14 no scusate 29 14 19 15 18 sono spettacolo ah guarda spettacolarissimi allora cominciamo col primo premio 37 guarda passa anche l'ambulanza passa anche l'ambulanza la 37 l'ambulanza suonante 27 27 il perizoma 45 la forchetta 36 lo squalo 31 è il motto rino rino ragazzi non c'è niente non c'è niente mi stanno già girando i marones 35 il motoscafo 28 i miei anni la puletra 26 è il nino dai ragazzi 12 12 sono i bastoncini findus dai 32 32 32 32 32 32 32 niente la mutanda 23 il giorno del mio compleanno niente non abbiamo beccato una beata mizzeca niente ragazzi via è uno è uno ragazzi l'abbiamo moltiplicato per uno per 50 per 5 niente niente passiamo al secondo uno è andato ne abbiamo presi di fila questo è il numero come fanno gli esperti questo è il numero 14 e questo è il numero no scusate 38 è il numero 39 ah ok è chi è chi è chi se parte vai allora 18 c'era anche di là valo qua se 18 morde 27 è aggressivo il 27 è aggressivo 34 ti piace di mia tia magherita bellissimo la stufetta stufa in caldo porno 31 il mosaico 22 la bajour benissimo attenzione adesso qui viene il bello qui qui ragazzi c'è la svolta eh benissimo qui diventiamo aggressivi vai aggressive via 11 ecco eccola qua 11 la pattumiera 45 l'umido 25 l'indistinto 24 la plastica la plastica abbiamo fatto tutto il circuito e la pattumiera e la pattumiera allora 42 l'ombrellone 28 e il canotto c'è il 27 22 22 preso fermi 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 tutti fermi il il canotto ha colpito 22 il canotto 22 10 mila euro ah no 10 e il canotto ha colpito oh 22 33 gli anni di cristo gli anni del cristo per 34 22 qui c'è il moltiplicatore ragazzi c'è il moltiplicatore per 150 mila 35 34 35 è il bagnino il bagnino 29 la medusa 44 il fila per 3 riccio di mare 16 è il moscone dai allora adesso ragazzi qui abbiamo un 22 che balla 22 che balla proviamo 10 per 10 per per me per uno io me lo so no eh mi gira già i maroni no lo so già speriamo vai piano che non riesco a prenderti facciamo la x così eh mi fai ballare la cabeza vado per 2 20 euro oh 20 fai vedere bene per due ragazzi quindi è uscito il 22 il 22 10 per 2 bene gli altri erano per due per cento era una bella tecca era una bella tecca ragazzi però per due va bene dai 20 euro 20 euro va bene visto ok allora dobbiamo dare tanto di cappello alla signorina fragolina qualche era l'altro non mi ricordo eh non mi ricordo forse era un ragazzo mio che ci ha detto prende due da 5 di fila buona fragolina abbiamo provato qui due da 5 sempre 10 euro e abbiamo vinto 20 10 per 2 20 stavolta abbiamo abbiamo ricadagnato i 10 dell'altra volta e facciamo a pare siamo sempre pareggianti noi noi siamo ancora in perdita eh anzi siamo ancora in anticipo eh siamo ancora in anticipo sono quelle 50 e 30 la abbiamo vinto che 50 30 siamo ancora buoni però una volta al mese ragazzi mi raccomando sempre e solo una volta al mese massimo 10 sono due ma da 5 mi raccomando ascoltate ascoltate i miei numeri e le spiegazioni perché è molto importante questo mi dà un salto di qualità nella vita benissimo grazie fragolina e l'altro ragazzo che ci ha detto di prendere due da 5 bravi ciao ragazzi alla prossima un abbraccione un bacione oggi siamo stati aggressivi aggressivi tutto per tutto aggressivi è bene qua Grazie a tutti.